Joseph-Antoine de Courbillon, letterato francese e buon italianista, venne spesso in Italia e nel 1819 raggiunse Napoli da dove si imbarcò per la Sicilia e nel suo diario di viaggio ci propone un interessante ritratto dell'isola all'indomani della restaurazione. Un miglio oltre Ortigia, dal lato opposto al grande porto che, aprendosi dapprima in semicerchio, si estende poi quasi in linea retta fino al promotorio Plemirio, promotorio che nella più bella delle cornici racchiude il più incantevole dei quadri, Là, dicevo, come posato sulle rive dello Ionio, vi è un luogo sereno e incantato, un angolo di terra sfuggito alla generale rovina, soggiorno favorito del cielo, che certo lo sottrasse ai furoi del tempo e degli uomini per offrirlo alla nostra ammirazione. Qui scorre l'anapo, qui uscito incautamente da un letto angusto ma sicuro, da una riva modesta ma fresca e ridente, ornata di versura, e abbandonandosi ancora più incautamente al perfido pendio di una spiaggia sabbiosa e infocata, Il tranquillo e umile fiume riconosce presto il suo errore e si getta come disperato nei flutti agitati e verdastri del grande mare Ionio. Qui, senza soffermarsi sulla lunghezza del cammino e i pericoli dell'impresa, il lettore, se lo crede opportuno, monterà sulla mia barca e condividendo la gloria di una grande scoperta potrà risalire con me fino alle sorgenti dell'anapo. La piccola barca che mi trasporta supera in un momento il bacino del grande porto, ed un tratto mi trovo in un Eden, da che ero in un orribile deserto. Appena tocchiamo la riva mi slancio verso terra, quasi temendo che essa mi sfugga. In vano Ortigia e il suo porto, Neapolis e le sue rovine attirano i miei sguardi verso i luoghi che ho appena lasciato. Sulla sinistra, le colonne del tempio dedicato a Giove Olimpio mi offrono i loro capitelli orgogliosi. Davanti a me l'anapo scorre placido in mezzo alla sua foresta di giunchi. Tutti i porti, tutte le città, tutte le rovine del mondo non potrebbero ora distogliere il mio sguardo dallo spettacolo che lo affascina. Momento indimenticabile che cancella ad un tratto molti mesi di affanni e di pene e mi ripaga di un secolo di fatica, di pericoli, di sofferenze, di privazioni, di disgusto e di noia. Forse qualcuno, lo so bene, non potrà non sorridere di scherno. Un cantuccio di terra con un po' di verde, un fiumicello che scorre fra alcuni giunchi, sono, ne convengo, oggetti poco adatti, in apparenza, a giustificare tanta estasi. Il quadro è dunque esagerato, se non proprio addirittura ridicolo. Faccio tuttavia appello a chi, come me, ha per lungo tempo percorso quest'isola tanto celebrata, questo deserto dell'Europa moderna. E se c'è qualcuno che, uscito d'un tratto dalla nuova Siracusa per venire su queste rive, non abbia provato quella specie di euforia che sola riesce a dare l'improvviso passaggio dal male al bene, quel gaudio interiore, quell'estasi pura e spontanea, quel non so quale segreto desiderio di restare nel luogo in cui ci si trova. Ebbene, quest'uomo è senza dubbio estraneo all'amore dei bei luoghi, dei grandi quadri della natura e alle impressioni che questi comunicavano. D'altronde, io descrivo quel che sento e non quel che altri sentirebbero al mio posto. Il punto in cui l'anapo si getta nel mare è una terra bassa e arenosa. Dapprima le acque del fiume si perdono nella sabbia e mentre raggiungiamo a piedi il tratto in cui esse sono abbastanza alte da permettere il passaggio della barca, i marinai trascinano l'imbarcazione a forza di braccia. Fatta questa operazione, ci si imbarca di nuovo e appena sfuggiti alla calura di una spiaggia arida e infuocata, ci si trova trasportati come per incanto fra due sponde vergeggianti ed ombrose, così vicine l'una all'altra che allargando le braccia si possono quasi toccarle. In certi passaggi i remi addirittura non possono muoversi, cosicché i rematori sono costretti a servirsi di una lunga pertica. Benché lenta, e forse proprio per questo, la nostra navigazione è molto piacevole. Se da una parte avanziamo con lentezza, dall'altra scivoliamo senza pericoli e senza timore fra siepi di alberi, di piante, di fiori, di giunchie e di vigne selvatiche, baluardo così alto e frondoso che forma sulla nostra testa come un tetto mobile e fresco che i raggi del sole, già alto e scottante, non riescono a penetrare. In effetti la primavera e l'autunno hanno eletto questo posto a loro dimora. Entrambi vivono qui ignorati e tranquilli, dando esempio del più puro amor fraterno. Questo fiume, o piuttosto questo rivo incantato, è notevolmente profondo. Anche qui, come del resto già a proposito della corrente di Cariddi, posso constatare come la prova dei sensi ci inganni e sia per noi sorgente inesauribile di errori e di fazzi giudizi. L'estrema limpidezza dell'anapo mi hanno ingannato sulla reale profondità. Tesa la mano verso il fondo, credendo di poterlo toccare, mi sono accorto che esso si trova invece a più di dieci piedi. Il Ciane A circa un quarto di lega oltre la foce del fiume, si scorge improvvisamente sulla destra un grazioso canale, la cui acqua è ugualmente limpida e circondata di verde perenne. Il suo corso appare più sinuoso dell'anapo, nel quale confluisce. Nasce da un'altra sorgente, non meno pura e profonda. È la sposa del dolce anapo, quell'amabile ninfa che i poeti siciliani di Grecia e di Roma hanno così sovente cantato sotto il nome di Ciane e che i solani di oggi non cantano più da tanto tempo e tuttavia conoscono sotto il nome ridicolo di Pisma. Se si volessero confrontare tutti gli esempi di tal genere, non si finirebbe mai. Ne ho rilevato, ne rileverò, certo altri. Per ora noto incidentalmente che il fiume da cui ha origine il Ciane, oggi chiamato Cardinale, aveva un tempo il nome di Enius, il principe troiano a fatto posto a un principe della chiesa. Il Ciane è interessante per un fenomeno la cui spiegazione ha messo in difficoltà più di un sapiente, a cominciare da Plinio. Le sue acque seguono l'andamento delle fasi lunari e crescono e decrescono a seconda che la luna sia calante o ascendente. Il celebre Maffei mise in dubbio la cosa, ritenendola frutto della fantasia popolare. Tuttavia il fatto è assolutamente vero. Me ne sono accertato personalmente. Il papiro. Finalmente la vedo, questa pianta celeberrima. Questo povero giunco, più famoso e forse assai più utile dell'orgoglioso cedo del Libano. Con immenso rispetto, le mie mani si posano sul prezioso tesoro dell'Egitto e della Sicilia. La foglia umile e modesta alla quale dobbiamo il nome, i fatti, gli scritti degli uomini insigni, il ricordo delle imprese gloriose, l'esempio delle virtù e dei vizi, le arti, le scienze, i mestieri e lettere. La pianta senza il cui soccorso, poesia e storia non esisterebbero per noi e senza la quale forse neanche sapremmo leggere. Una foresta di papiri è ora davanti a me, mentre quelli che li coltivavano sono scomparsi per sempre. Questa rara e preziosa piantagione è senza dubbio il più bello ornamento sulle rive dell'Anapo e del Nilo. La natura non ha creato niente di più ridente, di più fresco, di più singolare. Il regno vegetale non presenta pianta più interessante per la forma e l'uso, più graziosa e più pittoresca per l'effetto che produce. Io non pretendo di descriverla, l'hanno già fatto i dotti, ma mi sia concesso di aggiungere qualche parola a loro dire e di riferire quel che ho sotto gli occhi. Che se poi il mio quadro si discosta alquanto da loro, libero il lettore di pensare a un mio sbaglio, salvo a credere proprio a me e a negare credito a quelli. Il papiro è un giunco triangolare, amico delle acque più pure e limpide. Esso ha qui la sua dimora ideale. Le sue radici sono poco profonde e il bulbo ad esse legato, quando sostiene un solo stelo, non supera le dimensioni di un pugno. Dal bulbo esce il giunco triangolare che si immerge sott'acqua per circa quattro piedi. Mi resta ancora da rilevare un'asserzione completamente falsa dovuta a un viaggiatore moderno, il Bosch, il quale pretende che i marinai siciliani fanno oggi di questa pianta lo stesso uso che ne facevano gli antichi. Ahimè, i marinai siciliani sono ben lontani dal saper scrivere. E perfino se fossero più istruiti, l'autore ci parla di un'epoca distante, appena 16 anni dalla scoperta del nostro prezioso papiro. Questo, che cresceva e cresce ancora alle porte di Siracusa dai tempi del diluvio, fu scoperto soltanto nel 1764 da un dotto naturalista inglese, venuto espressamente da Londra per rivelare ai siracusani il tesoro di cui possono così facilmente disporre. E' ancora più falso che questi stessi marinai ne abbiano mai conosciuto la preparazione, che resta un mistero perfino a noi. In verità, nel 1786, uno scienziato di Siracusa, il Cavaliere Saverio Landolina, riuscì a ricavare dalla pianta una specie di carta, della quale si servì per partecipare la sua scoperta a tutti i dotti d'Europa. Ma a parte il fatto che egli non si illudeva minimamente di aver ritrovato il segreto degli antichi e che tra la scoperta della pianta e questo successo erano passati ancora 9-10 anni di tentativi e di prove, i barcaioli siciliani erano tanto lontani dal servizio del papiro antico che ancora oggi essi neanche ne sospettano esistenza, nome e uso. Questa famosa scoperta pare abbia fatto così poco chiasso a suo tempo nel paese che Brydon, venuto a Siracusa appena sei anni dopo, sembra non ne sia venuto a conoscenza, giacché in effetti egli non parla né del fiume né del papiro. Aggiungo infine che nemmeno a Siracusa mi è stato possibile procurarmi una delle lettere del Cavaliere Landolina. La scoperta di Giderflett e l'esperimento di Landolina sono entrambi da gran tempo caduti nell'oblio. Coscienziosi al mondo del bibliotecario dell'Escuriale, i siracusani moderni non si servono in alcun modo dei tesori loro affidati e quelli di essi che, grazie all'aiuto straniero, finalmente hanno conosciuto l'esistenza di questo giunco, sul quale i loro Pindari e i loro Teocriti scrissero versi immortali, costoro, dico, gli danno il nome di parrucca, sulla quale lascio a capigliare i cultori di etimologia come gli artisti paludati. Tuttavia, per evitare a quelli lunghe e penose ricerche e a questi la perdita di tempo prezioso, li prevengo che la pianta in questione ha in effetti notevole somiglianza con una testa scarmigliata, con la scapigliata fante dell'Omero Fiorentino. Di tutti i ponti gettati sull'anapo nell'antichità e celebri nella storia di Siracusa, di Cartagine e di Atena, di tutti quelli costruiti dagli stessi moderni, uno solo oggi resta in piedi. Ignoro l'epoca della sua costruzione, Ma quel che è certo è che la forma, insieme semplice ed elegante, e soprattutto la sua evidente solidità, lo fanno degno di levarsi sopra l'antico fiume, le cui acque limpide eppure scorrono tranquillamente qualche tesa oltre la foce del Ciane, sotto l'unico arco che lo sostiene. Quanto agli antichi ponti, la maggior parte fu distrutta dagli stessi Atenesi, e qui, sulla destra, si notano alcuni resti dell'antica strada, che andava da questo ponte, intendo dal ponte moderno, fino alla città di Neapolis. La nostra barca entrò poco dopo in una piccola baia, oltre la quale si scorge soltanto un'immensa prateria, ornata da ogni parte di alberi, di verde, di fiori, e chiusa da alte montagne. È qui che l'anapo esce dalla terra per gettarsi in mare dopo un corso di poco più di una lega e mezza. Ci sono molti fiumi che hanno un corso più lungo, ma nessuno come questo è così ricco e pittoresco. Una selva di arbusti, di papiri e di tante altre piante lo circonda da ogni parte, e si specchia nelle sue acque, famose per la grandezza e la qualità delle anguille e delle trote che vi si pescano, falso che vi si trovino anche salmoni. Tutto al più, le rive del fiume sono propizie alla caccia di una gran quantità di uccelli acquatici. E questo è il solo passatempo concesso agli abitanti della moderna Siracusa.